Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, disattende tutte le promesse e così non può andare. Parole e musica del coordinatore locale di noi con Salvini, Antonio Giudice. Per Giudice non c'è alcun dialogo tra l'amministrazione e i cittadini. Che se non fosse per il nome nessuno, dico nessuno, sarebbe accorto che a Gela c'è una nuova amministrazione. Che mi sembra che nulla sia cambiato. Tutti quei proclami fatti durante la campagna elettorale si sono dissolti in questi quattro mesi. Poi un sindaco che mette alla porta i cittadini, nella cittadigia non si è mai visto nella storia. Cosa vuol dire mette alla porta i cittadini? Non riceve i cittadini. Cioè i cittadini che vogliono parlare con il sindaco per esporre i problemi, il sindaco non li fa entrare, non gli dà nessun appuntamento. Non dimentichiamo che ci sono quelli che fanno il mercato, gli ambulanti, che da diverso tempo, diversi mesi chiedono un appuntamento con il sindaco. Puntualmente questi appuntamenti vengono disattesi. Tiradina d'Orecchia l'amministrazione comunale in tema di acqua. Il 9 agosto è stato firmato un decreto legge dove permette a tutti i sindaci di tutte le città siciliane di ritornare all'acqua pubblica. Come uno dei capisaldi del programma pentestellato era quello di ritornare all'acqua pubblica e quindi stracciare il contratto con Galtacqua, non si capisce come mai ad oggi non hanno ancora condotto questa battaglia e quindi portato avanti questo decreto legislativo che permetterebbe a noi gelesi di ritornare all'acqua pubblica. Tutto quando scade, voglio ricordare, del 20 novembre che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 20 agosto. Dopodiché dobbiamo subirci di Caltacqua per altri 20 anni ancora. Antonio Giudice interviene anche sulla vicenda Eni. L'Eni ha causato diverse morti. Non capisco come mai il signor sindaco messinese mette la bandiera a mezz'asta contro la chiusura dell'Eni ma non mette la bandiera a mezz'asta per le morti di tumore causate dalla raffineria. Durante la campagna elettorale vorrei ricordare che messinese diceva che non avrebbe mai accettato l'emosina da parte dell'Eni riferendosi ai 32 milioni di euro. A quanto pare si sta accettando i 32 milioni di euro quindi anche questo, uno che era uno dei capisardi del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale è andato sfumando. Quindi non si capisce come mai adesso l'aggiunta messinese abbia accettato da parte dell'Eni questa elemosina come diceva allora di 32 milioni. Probabile che certi equilibri qui a Gela devono rimanere tali.